Dimmi tu quando. Obiettivo di fondo di questo esercizio era dimostrare di fatto che quella che noi presumiamo sempre essere la nostra conoscenza del mercato di riferimento al quale ci rivolgiamo, non è una reale conoscenza, la presumiamo appunto, ma non abbiamo un dettaglio davvero molto attento. Negli alberghi molto grandi, le strutture molto grandi, le destinazioni più grandi, più importanti, che hanno anche più budget e più maturità rispetto all'argomento che possono permettersi anche di investire in questa direzione, la profilazione dell'ospite è una scienza, è fatta in maniera molto accurata, ci vengono investiti tempo, energie e risorse anche umane. Questo può difficilmente accadere in strutture molto più piccole, è molto più complesso per alcuni versi. Dall'altro lato, la struttura più piccola, la destinazione più piccola hanno anche un enorme vantaggio di sensibilità individuale che può diventare un'antenna per captare informazioni rispetto all'utente medio. Quando noi diciamo, io mi rivolgo la mia offerta alle famiglie, noi stiamo parlando di un universo, la famiglia non è una codificata come quella del murino bianco, le famiglie sono n, le famiglie sono ormai famiglie anche molto diverse da quelle tradizionali, possono essere genitori separati con figli al seguito, possono essere gruppi che comprendono persone di età diverse e soprattutto all'interno di una famiglia, diciamo così tradizionale, due genitori con bambini, ci possono essere genitori giovani con bambini molto piccoli, bambini in età scolare, bambini alle medie, bambini adolescenti, figli adolescenti. Ci possono essere famiglie adulte, mature, con bambini molto piccoli. In questi ultimi anni il trend è quello di gravidanza in età molto più avanzata, questo vuol dire però un atteggiamento diverso da parte dei genitori, tendenzialmente il genitore che ha figli in età molto più tarda tende difficilmente a lasciarli con babysitter, per esempio, quindi forse è un servizio che non vi servirà se fosse quel tipo di ospite. Sono tante diverse variabili, l'ospite che viene perché ha un interesse sportivo, vengo perché sono un velista, voglio fare una settimana comunque a vela, porto con me la mia famiglia, il velista va a vela e la famiglia forse no, non lo sappiamo, ci chiederà forse servizi aggiuntivi, esistono velisti in cui tutta la famiglia è appassionata di vela, esistono velisti in cui la moglie sopporta questo sport, questo hobby del marito, ma vorrebbe comunque intrattenersi e fare altro. Questo vale moltissimo per il discorso della neve, per esempio in inverno. Gli operatori delle nostre montagne, delle nostre dolomite, delle nostre alpi, hanno un'offerta che è molto articolata perché sanno perfettamente che a famiglie che arrivano a Madonna di Campiglio, possono esserci, possono corrispondere genitore che scia insieme ai figli, mamma che non ne ha voglia e le occorre intrattenersi per un arco di tempo che è abbastanza lungo, stando da sola peraltro, quindi sto al centro del benessere, passeggiata, passeggiata a cavallo, attività comunque della natura, attività di hobbystica o di tradizione culturale locale, per esempio. Possono esserci casi in cui nella famiglia un bambino è più piccolo e ancora non scia, quindi i genitori a turno si alternano a non sciare per stare col bambino, magari vogliono avere comunque tempo, modo e spazi nei quali passa a trascorrere questo tempo, sono tantissime tipologie e l'esercizio serviva a dimostrare quanto in realtà tendiamo a negarci noi stessi quell'esistenza. In più di qualche gruppo ho sentito, abbiamo famiglia con figli grandi o con figli piccoli, eh, quella è una, e all'interno? E la risposta è stata, ci abbiamo pensato, sì, ma non abbastanza perché sulla carta comunque non c'è, cioè, pensarci non basta, famiglia non è una, sportivo non è uno, straniero non è uno, straniero da paesi differenti, con motivazioni differenti, lo straniero che ha origini in questo paese ha un'altra percezione della destinazione, vuole diversare in un altro modo, gli fa piacere magari incontrare il tizio che conosceva suo nonno, ho scoperto ieri sera che anche un famoso cantante internazionale è stato qui a Matera, di passaggio, di ritorno da un viaggio in cui in Calabria Stephen Tyler Aerosmith andava a trovare i suoi, che si chiama Tallarico, di cognomo ho scoperto, una rivelazione pazzesca, salutiamolo, visto che siamo in streaming, Stephen Tyler della terza, e ci sta ragazzi, sono grande fan, ci sta tutto, e quindi questo dimostra che comunque hanno un atteggiamento diverso rispetto alla motivazione del viaggio, ma questo si traduce anche in servizi diversi, in diverse aspettative, e in diversa risposta a quello che gli viene offerto, perché chissà di avere origini in questo paese probabilmente viene a cercare le sue tradizioni che di fatto però non conosce, quindi comunque hanno una disponibilità d'animo diversa, chi non appartiene culturalmente al nostro ambiente ci guarderà con un occhio di maggior curiosità ma anche di maggior distacco, sono sfumature che però servono a definire qual è il contenuto poi del servizio e dell'offerta che comunque andiamo a proporre, e serve a ricordarci che non sono tutti uguali, e che se offriamo un servizio pensando di essere generalisti forse rischiamo anche di sbagliarli, è importante esserne consapevoli, offrire l'offerta famiglia sul nostro sito significa essere pronti a gestire qualunque tipologia di famiglia, bambini molto piccoli, età scolare, pre-adolescenza, adolescenza, che quando viaggiano ancora con i genitori, ma hanno esigenze molto diverse e a noi richiedono servizi molto diversi, la destinazione che si offre come family friendly deve essere pronta a offrire servizi per qualunque tipologia di famiglia, deve essere pronta a non scandalizzarsi se arriva anche una famiglia gay con bambini, io giorni fa per la prima volta ho visto una coppia gay con un bimbo piccolo a Roma in un museo e la cosa incredibile è che mi sono voltato due volte a guardarli, perché lì per lì ho detto, è strano perché comunque uno non ci pensa mai, però comunque da operatore ho rilevato l'eccezionalità comunque, perché la prima volta che mi capitava di vederli comunque in un museo con bimbettino piccolo nel passeggino e mi ha stupito molto anche la mia reazione, ho pensato ma che tipo di esigenze hanno? Le stesse che ha una famiglia normale, normale no, scusate, tradizionale diciamo così, però forse anche no, però forse hanno bisogno di un contesto nel quale non si sentano famiglia strana e questo non sempre accade dappertutto, esistono destinazioni più o meno friendly rispetto ad alcune tipologie di ospite, esistono destinazioni che sono più o meno friendly rispetto all'ospite gay, rispetto all'ospite disabile, all'ospite con animali a seguito, siamo destinazioni che si vuole proporre come comunque anche naturalistica, quindi mi aspetto che le persone dicano ok, ambiente come chiave portante comunque dell'offerta, posso portarmi dietro anche il mio animale? In teoria sì, in pratica magari poi non ci sono strutture ricettive che sono sistemate o comunque attrezzate per accoglierli, sono un ciclista che vuole farsi comunque un tour bello in questa zona naturalisticamente parlando molto interessante e peraltro anche non particolarmente difficile, quindi comunque è facile attrarre qui gruppi di ciclisti per viaggi anche non particolarmente impegnativi da un punto di vista sportivo, però avere le bici al seguito vuol dire avere i servizi per le bici, cioè nelle destinazioni che sono più fortemente evocate alla bicicletta, parlo della Vala Sugana per esempio, che è una lunga, che collega sostanzialmente Trento fino a Bassano del Grappa, quindi fa due regioni, ed è lunga, una nantina di chilometri, hai lungo il percorso i biciclirl, quindi dei posti in cui puoi anche fermarti per il pronto soccorso della bicicletta, che so, bucato una ruota piuttosto che un freno alla catena, hai alberghi che hanno il deposito per le biciclette. Esistono addirittura dei posti, perché c'è gente che si porta la sua di bici nei percorsi più complessi, cioè chi fa downhill, chi fa corsa, eccetera, ha la sua bici in carbonio, costosissima, che si è costruito customizzata, quell'ospite si porta la bici in camera. Esistono posti che ti permettono di portare la bici nella tua stanza, quindi comunque viene su con te, hai il suo piccolo alloggio, sì, ci troviamo insieme, no, davvero, perché comunque sono bici costosissime, non vogliono rischiare che qualcun altro comunque le tocchi e le mantenga per il tempo che serve. Alberghi che hanno intercettato queste esigenze hanno creato piccoli ripostini nei quali poterle posizionare, con ascensori più grandi nelle quali farle salire in verticale. Sono piccoli dettagli che però danno la dimensione di quello che dobbiamo mettere in conto quando pensiamo di proporci con un certo tipo di target, con un certo tipo di offerta. E soprattutto l'offerta è estremamente articolata al suo interno. Non siamo in grado di offrire sempre tutto a tutti, questo è evidente. La cosa importante è essere chiari in quello che si offre. Si possono non accettare bambini, non è il male. Esistono fior di alberghi che non accettano bambini, o bed and breakfast o ristoranti anche, non è il male. L'importante è che sia chiarissimo il messaggio, che sia cortese e che sia argomentato. Un albergo in questa area amalfitana a Praiano, tra l'altro su uno sperone di roccia, molto design-oriented, quindi comunque con questi interni molto minimal, non adatto effettivamente a bambini che scorrazzano, non li accetta sotto i 12 anni, in realtà non ce ne ho trovate mai neanche di adolescenti lì dentro, e chiaramente ti dice che per la struttura e la tipologia dell'albergo, la location nel quale è collocato, in mezzo al nulla, che sono sperone di roccia e non ci sono servizi intorno, a parte quelli dell'albergo, quindi se vuoi uscire devi farti dei chilometri a piedi per arrivare a Positano, per intenderci, l'albergo non è consigliato per ragazzi al di sotto di. Non hanno mai avuto proteste. Qualcuno ha provato a chiedere, ma vorremmo festeggiare, eravamo stati là, abbiamo un bimbo piccolissimo, il bimbo piccolissimo tutto male è gestibile, il bimbo che già cammina è molto più complesso, gli occorrono servizi. Puoi offrire un biberon e il riscaldamento della pappa, non c'è dubbio, ma poi puoi offrire anche altro? Con la carrozzina si sta scomodi, in un posto del genere. Un bambino piccolo ha ritmi diversi, ha tempi diversi, un bambino piccolo può essere di disturbo ad altri ospiti, perché può essere rumoroso, è oggettivo. Non è il male scegliere una categoria piuttosto che un'altra, non c'è per forza la negazione del ah no, stiamo commettendo una scorrettezza, stiamo discriminando qualcuno, assolutamente. È scegliere un mercato in maniera pienamente consapevole e altrettanto coerentemente mantenere quella proposta sul mercato. Quindi però mettersi in testa che se offro servizi per attirare qua un pubblico di sportivi, i servizi qua li devo avere. E non quelli basici, ma devo ricordarmi che in prospettiva il mio percorso sarà da 3 a 5 anni di attivare tutti i servizi anche non basici. O altrimenti se ho voglia di comunque partire subito con quell'offerta devo entrare nell'ordine di idee che la mia offerta dovrà essere da subito comunicata in maniera molto chiara o che potrò cercarmi target di persone che hanno un'esigenza meno raffinata. E quindi prendermi quelli che in bici ci vanno, ma non sono quelli appassionati che si fanno il costo costo americano con la bicicletta, ma sono persone normalissime, tipo me, tipo voi, che d'estate si fanno una settimana e approfittano del tour per degustare il vino nelle cantine. Ho fatto un giro della regione di Bordeaux in bicicletta, per esempio. Andavamo in giro per cantine, non vi dico come, è stato molto bello, perché andare è molto bello e tornare un po' meno, perché comunque non hai più voglia e 25 km ci metti il doppio del tempo a farli, ma è bellissimo. Funziona molto bene, ma quello è un tipo di viaggio per gente come me, che comunque voleva farsi un giro per la regione, voleva provare il vino, però non voleva farlo in un modo troppo fighetto, diciamo troppo sofisticato, ma voleva un approccio un po' più normale. La bicicletta era un buon compromesso, erano 40-50 massimo chilometri al giorno, più o meno pianeggianti, con quattro cantine di qualità, vini eccellenti e comunque un ambiente piuttosto variegato. Tra l'altro nell'immaginario quel tipo di gruppo che si crea è un gruppo abbastanza autosommato omogeneo come interessi e come attività. E infatti, pur essendo una cinquantina di persone, quindi molto grande, tutto sommato all'interno avevamo sì un paio di malati per il vino, un paio di ciclisti professionisti, ma per il resto erano persone più o meno allineate alle altre. Quindi un'offerta autosommato ragionevole, va bene, va benissimo. Un esperto, come in quel gruppo è capitato, si sarebbe molto sentito fuori posto, perché comunque lui spingeva per avere più ritmo nella pedalata, più velocità, arrivare a destinazione in due minuti, non c'erano voglia. Quello fuori posto era lui. Ma questo dimostra che o ha letto male le indicazioni sul programma o semplicemente non è voluto stare al compromesso che il programma comunque presupponeva. a fronte di uno innervosito, 49 soddisfatti però comunque. Quindi quell'offerta era perfettamente coerente con quello che prometteva e col tipo di target che si è cercata. Ok? Questo è importante. Se qui parliamo di fare un discorso, come parliamo, un discorso estremamente evocato all'ambiente naturale, alla proposta sportiva, culturale, che però ha come attrattore principale, come deus di tutto il ragionamento, la gravina, teniamo conto del fatto che ci occorrono una serie di servizi che forse non esistono ancora sul territorio, su questo territorio. Ma il fatto che non esista non vuol dire che non si possa fare. Perché non siete isolati nel nulla, ma siete in un contesto territoriale di cittadine molto vicine l'una all'altra, dove questi servizi esistono. E quindi il discorso della terza destinazione, sì, ma la terza destinazione in un contesto più ampio territoriale. Perché non ci dimentichiamo che se la Puglia è già messa molto bene, perché comunque Puglia è un brand di suo che funziona e le persone riconoscono, Salento è un brand ancora più forte. Taranto non credo proprio, non ne parliamo neanche della terza, ma neanche aspiriamo a preoccuparci di diventare, nel senso che non c'è bisogno di diventare riconosciuti nel mondo per. L'importante è che si sappia che in quest'area si fanno una serie di cose che altrove non puoi fare, che quale fai molto bene. È un po' come quando si pensa che l'ospite straniero che arrivi conosca veramente bene il nostro paese. No. Se vi faccio vedere disegni dove le persone hanno posizionato città europee, vi viene l'ansia? Perché hanno messo Roma alta come Firenze, hanno messo Parigi più a sud. Se arrivano dall'Europa, ancora l'infarinata ce l'hanno, e neanche tutti. Arrivano dall'oltreoceano, è drammatica la situazione, non hanno la conoscenza, non c'è la forza dei brand. Il Lazio come regione non esiste. Quando Roberta Milano, la consulente che sta lavorando per il Lazio, la regione Lazio, è di Genova lei, durante una riunione disse creiamoci un hashtag per il Lazio. Lazialità. È stata quasi insultata perché lazialità a Roma significa essere della Lazio, squadra calcistica. Perché non c'è l'aggettivo laziale riferito a del Lazio, è della Lazio. Per noi dire laziale vuol dire appartenere a una squadra, tifare per la Lazio, non è essere di una regione. Perché il Lazio come regione non aveva fino a poco tempo fa una sua identità. E questo vale per moltissime altre destinazioni. Non conoscono la Campania, la Calabria, conoscono Sicilia e Puglia, abbastanza. Conoscono Sud, conoscono Mediterraneo. Per oltreoceano, scegliere Spagna, Italia o Grecia è molto simile. Vogliono farsi la vacanza di mare. Ok? Poi la discriminante che entra in gioco è un'altra nella scelta. Quindi non ci stiamo tanto a tormentare sul fatto che dobbiamo conquistarci domani la reputazione come la terza in senso stretto. A meno che non accada un evento, si organizzi una massivissima operazione in questa destinazione che attragga talmente tanto interesse dei media internazionali e lo mantenga nel tempo, non è una priorità quella. Come non lo è lavorare da soli, mi raccomando, fondamentale. Quello che manca non è un buon motivo per non partire, si parte prendendolo dove c'è. Parliamo di distanze comunque relative. Parliamo di attivare comunque servizi che possono essere un po' più costosi. Bene. Prendere un servizio a Putignano e portarlo alla terza può essere più costoso? Senz'altro. Vorrei dire che il vostro target sarà oggetto di un pacchetto di qualità particolarmente alta che giustifichi il costo di quel servizio. Vorrei dire che cercheremo un target di persone di fascia medio-alta. Vorrei dire che lavoreremo con appassionati di arrampicata che sappiamo già acquistare pacchetti di altre destinazioni che hanno un target di mercato medio-alto. Andiamo a guardare cosa fanno anche gli altri. Chi arrampica se ne va in giro da arrampicare, si sceglie le pareti, se ne va alle scogliere e i Dover, viene a gravina o va da qualche altra parte. Comunque va in giro come gli alpinisti, come chiunque abbia un interesse sportivo di questo tipo. tende a cercarsi i posti che gli possono essere interessati. Tende anche a essere pioniere, quindi sfruttate anche questo elemento, per esempio. Però non avere in casa non vuol dire non fare, mi raccomando, perché non avete tutto ancora pronto per partire subito con la terza. Però non vuol dire non poter partire. Che ora abbiamo fatto? Vi posso chiedere al volo? Mezzogiorno, ok. Raccontate molto brevemente quello che avete costruito e le categorie che avete messo insieme in base all'esercizio. Quindi chi siete riusciti a profilare? Cominciamo da voi qui davanti. No, forse è spento. Quella che avete scelto. Ah, quella che abbiamo scelto. Quindi abbiamo scelto come riferimento una trentenne donna sportiva sposata con un figlio di dieci anni a seguito però senza marito a seguito. Praticamente questa si interessa di vela ha scelto come sport la vela e l'albergo in cui diciamo ha prodotto la stazione è convenzionata con delle strutture sportive di vario genere che danno accesso soprattutto per quanto riguarda la vela ad un club nautico dove la turista trova tutte le informazioni per svolgere questo tipo di attività nel nostro caso cioè trova il maestro di strutture nel caso in cui abbia bisogno sia alle prime armi diciamo e poi la possibilità anche di poter fittare le attrezzature tipo la 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 barca la c'è tutto allora in questo scenario il figlio allora poi offre il club offre anche la possibilità di poter partecipare a delle gare che magari si svolgono in quei giorni in cui la turista il figlio a seguito non è interessato allo sport che svolge la madre ma gli piacerebbe fare altro tipo di sport sempre comunque relativo diciamo all'acqua acquatico e quindi sceglie il nuoto in quanto gli dà anche la possibilità di poter conoscere altri ragazzi che comunque frequentano il club e quindi inserirsi nel contesto perfetto se ora vi chiedessi questo tipo di proposta identifica molto chiaramente un certo tipo di target di persona comunque di riferimento che potrebbe acquistarlo come pensate che dovremmo andare a interessare quel target cioè quali sarebbero i canali attraverso i quali informare la signora che esiste questo posto dove lei può fare vela mentre suo figlio comunque si diverte ed è gestito da persone competenti professionali e comunque trascorre piacevolmente la settimana anche in maniera indipendente pur essendo un bambino diciamo che internet è il canale principale per poter sì ma su internet cosa? cioè nel senso vabbè diciamo all'interno del sito dell'albergo indicare quali sono le attività che vengono svolte nell'albergo le convenzioni all'interno del sito dell'albergo io già so che voglio andare a Taranto in quell'albergo lì che è una cosa che accade nel 1% sì sì ho capito come arrivare all'informazione se pratica vele la vela motiva comunque la sua vacanza e la scelta di una destinazione probabilmente avremo fatto un lavoro di promozione sui circoli velici del nord Italia era italiana la vostra non mi ricordo è del nord mi sembra del nord Italia quindi comunque sapremo con certezza che in tutti i punti di interesse velici del nord Italia noi avremo comunque comunicato la nostra proposta ci saremo gemellati con altri circoli nautici avremo fatto un lavoro sulle scuole di nuoto che spesso organizzano anche i saci estivi per i bambini quindi comunque sappiamo che dove andare a parare sappiamo che comunque intercettiamo un target di quel tipo perché siamo in grado di offrire quel tipo di servizi e ce lo andiamo a cercare dove sta dopodiché la signora avendo appunto informazione che il suo circolo velico avrà visto una locandina ne avrà parlato con qualcuno si verrà a cercare il sito specifico dell'albergo questo è evidente ma non possiamo presumere che essendo nel mio sito le informazioni le persone mi troveranno perché o io spendo milioni di euro per Google Ad e quindi comunque Google mi mette il primo risultato e comunque sia dovrei essere io ospite talmente convinto di questa scelta che non cercherò nessun altro tipo di offerta quando in realtà pur avendo molte passioni le persone vanno a cercare ad approcciarsi alla scelta della destinazione con un certo lasco con una certa flessibilità della serie sono un velista voglio io ho amici che fanno immersioni ma sono fissatissimi con le immersioni spesso mi chiedono dove andiamo quest'anno che ci suggeriscono tu che giri tanto che posti potresti suggerirci loro vogliono vedere posti nuovi ogni anno fondali nuovi ogni anno sono finiti nelle Filippine perché anni fa qualcuno è un gruppo di persone che si riunisce in una specifica piscina dove fanno appunto le immersioni e i corsi qualcuno gli parlò delle Filippine come di fondali meravigliosi quindi un'informazione drelato senza particolare struttura andarono a cercarsi le informazioni presso l'ente del turismo filippino addirittura quindi proprio di loro iniziativa perché quel tipo di ospite ha quel tipo di passione e investe anche tempo nella scelta della destinazione altri ospiti no la vela la fai più o meno dappertutto compatibilmente col tuo livello di capacità sai benissimo che andare sul lago non è come andare sul mare sai benissimo che il canale della manica o Tarifa in Spagna sono due posti con dei venti folli solamente per super esperti il resto va più o meno bene tutto e quindi comunque però a quel punto che sia Grecia Italia o Spagna non fa tantissima differenza quindi cos'è che fa scegliere noi anziché la Spagna anziché la Grecia apparirà di livello professionale del servizio offerto apparirà di bellezza comunque naturalistica perché scelgo Spagna Francia o Italia cos'è che motiva che tipo di lavoro si è fatto in quel senso e questa è una domanda da forsi sicuramente ok grazie mille il vostro voi vai molto brevemente senza tanto man mano confermiamo le cose appena dette quindi allora io ho scelto un imprenditore cioè motivazione affari un imprenditore di 40 45 anni con la fascia di età che non ha grossi problemi a spendere e a dinamico ho comunque interessato a fare anche altro rispetto alla riunione di lavoro chiaramente al motivo proprio insomma principale ho immaginato che mi contatti io una struttura mi contatta o comunque so che questa persona prima di arrivare è interessata a diciamo prolungare il soggiorno cioè magari tre giorni di riunioni d'affari poi due giorni magari li allungano li aggiunge diciamo al soggiorno e quindi so che amante della natura avevo benessere quindi benessere legato alla natura comunque al corpo diciamo e quindi ho immaginato diciamo questa proposta questo pacchetto diciamo propongo uno spostamento in una struttura perché magari io sono immaginato in una struttura appartenente a una famiglia una struttura storica una dimora storica appartenuta a famiglia nobiliare che è anche una tenuta al di fuori e quindi fuori diciamo nell'Interland e quindi a questa diciamo questa sorta di masseria con la spa quindi con tutti i servizi e quindi propongo un primo giorno di una full immersion nella natura con una visita praticamente ai miei vigneti una passeggiata nella natura quindi delle attività collegate che perché so che questa persona ha questo tipo di interesse e poi la seconda diciamo il secondo giorno una visita quindi io ho anche delle cantine quindi leggo il benessere diciamo del corpo al vino diciamo a questo aspetto della natura queste produzioni li propongo nella spa i miei trattamenti al vino i massaggi cioè li propongo queste giornate con questo focus qui e niente alla fine li propongo anche di farsi le fotografie con il vino con i vigneti di crearsi la sua etichetta di mettersi sulle sue bottiglie vi ero immaginate anche l'idea che questo venisse raggiunto dall'amante perché mi è capitato è capitato a me che venisse diciamo in incognito no di fare l'amante no di averne no no perché fosse diciamo in incognito ovviamente magari le etichette non le propongo magari con la foto l'amante diciamo però più o meno così eh sì però il pacchetto si chiamava si chiama in vino salus anziché veritas il tipo di promozione su questo pacchetto quale potrebbe essere come facciamo a sapere che l'ospite arriva l'ospite arriva con questo con questo interesse perché noi lo abbiamo intercettato già prima quindi lui arriva in questa destinazione perché deve venirci per lavoro però si ferma un po' di più però come lo aiutiamo a conoscere la destinazione allora cioè ha questo tipo di passione immagina ora ha questi interessi anche quando è a casa sua quindi comunque ce li ha sempre questi interessi saremo in contatto probabilmente con chi in quelle destinazioni gestisce servizi per soddisfare quel tipo di interessi diciamo simili ho immaginato anche o dei siti o delle riviste anche web magazine insomma di interesse cioè che ovviamente questi gruppi cioè siti specializzati di riferimento questo tipo magari il benessere legato alla natura alle produzioni infatti associazioni sommelier comunque esatto esistono portali che aggregano tutte le strutture che si occupano appunto che hanno trattamenti benessere esistono portali chi fa yoga per esempio lo yoga è una comunità meravigliosa molto ben strutturata peraltro che comunica moltissimo le discipline orientali e le slow legate comunque alla meditazione in generale hanno delle comunità molto forti molto interessanti c'è un caso molto bello qui in Puglia a Zollino che è a metà tra Otrant e Gallipoli quindi in mezzo a nulla per intenderci dice ma come sei a 20 km di qua e 20 di là verissimo però tu non sei sul mare a Zollino una ragazza appassionata di Ashtanga Yoga ha recuperato questo bellissimo questa proprietà di famiglia e l'ha trasformata in uno dei più importanti centri di Ashtanga Yoga italiani lei ha da subito posizionato la proprietà la sua offerta su un taglio molto alto invitando durante la stagione estiva per settimane moduli quindi di settimana importantissimi maestri yoga internazionali lo Yoga Ashtanga è una disciplina che certifica i suoi insegnanti solamente in India per una certa scuola quindi comunque tu sai che se pratici quella disciplina vengono da quella scuola gli insegnanti di una comunità abbastanza molto enorme ma chiusa controllata definita in questo modo lei ha invitato da subito questi insegnanti famosissimi di livello internazionale che qua nessuno conosceva probabilmente a fare questi stagioni di una settimana a Zollino lei è sempre piena era piena all'inizio e piena adesso ha allungato di molto la stagione perché per fare yoga non mi serve per forza agosto va benissimo anche in un altro momento sono settimane chi si muove per lo yoga ha naturalmente un interesse una disposizione al suo soggiorno di un certo tipo quindi è anche molto facilmente definibile e anche semplice volendo come tipo di interlocutore in alcuni casi perché è chiara la sua esigenza e quindi chiara può essere anche la risposta con semplicità e sta funzionando molto bene e mi chiedevo infatti ecco a proposito dello yoga e della gravina ci pensavo mentre parlavamo appunto dello sport esistono anche molte teorie rispetto all'energia degli spazi naturali e tutto quello che è energia legato alle pietre all'ambiente naturale al bosco eccetera all'acqua che scorre all'acqua che fluisce è una perfetta location anche per altre discipline e infine slow quindi per intenderci lo yoga e anche altre legate comunque alla meditazione in senso più ampio questa destinazione si presta molto bene secondo me per molte ragioni perché c'è un discorso appunto slow complessivo della cultura locale che non significa lentezza ma significa godibilità e fruibilità piena di quello che accade con tempi molto rilassati che non ti forzano a niente e c'è sicuramente la possibilità di combinare quel tipo di interesse con tante altre situazioni che sono la metà tra lo spirituale e il carnale diciamo così quindi possiamo fare un discorso di food che in questa regione per essere particolarmente legato a prodotti naturali permette di sperimentare anche dei percorsi leggeri anche light anche piacevoli ma non per forza sofisticati complessi o pesanti permette di soddisfare anche i vegetariani o chi ha grosse perché ci sono moltissime ricette tradizionali che sono assolutamente addirittura vegane in certi casi quindi comunque assolutamente perfette anche per una tipologia senza complicarvi troppo la vita avete già un prodotto di questo tipo combinabile avete un'offerta in termini di ambiente naturale che ve lo consente e avete una richiesta da quel tipo di ospite che non è particolarmente sofisticata non sempre è di qualità la richiesta vuole qualità sul servizio offerto ma non vuole per forza il 5 stelle quindi anche partendo in questa destinazione con i soli B&B si può cominciare a ragionare in quest'ottica certo perdo l'effetto del yoga resort naturalmente però potrebbe diventare un yoga resort diffuso potrebbe esserci un discorso di resort inteso come ambiente naturale quello è già un'interessante declinazione dell'aspetto sportivo che si potrebbe ragionare sulla gravina oltre all'arrampicata e oltre alle altre proposte che erano già venute fuori e naturalmente la promozione in quel senso è semplice perché so dove andare a cercare chi pratica yoga so che ci sono moltissime riviste come non so Natural Style o altre a livello nazionale come anche internazionale a piano di portali esistono le scuole yoga con le quali posso collaborare e organizzare in collaborazione la scuola yoga di Ashtanga Yoga che c'è a Roma organizzare dei ritiri regolarmente 4-5 volte all'anno nelle marche in un posto che ha trovato che gli sembra molto adatto al tipo di attività che loro praticano perché non potrebbe magari venire qui informata e adeguatamente comunque strutturata l'offerta quella in realtà potrebbe diventare un'antenna a Roma per chi volesse praticare yoga in una destinazione comunque di vacanza ci sta che si possano attivare tante dinamiche di questo tipo l'importante è avere ben chiaro cosa e verso quale target nuovamente grazie mille potrebbe essere anche un'idea se io faccio per esempio una ricerca non solo nel mio territorio sono delle aziende che potrebbero quindi avere contatti con altre aziende all'estero o in Italia e quindi andare a fare magari a contattare non lo so l'ufficio personale quando magari non lo so organizzano attività di team building e altre cose simili andare a proporre anche questo questo è un altro grazie per averla portato all'attenzione è un altro elemento importante tutto quello che ha a che fare con quello che si costruisce può avere un aspetto leisure ma anche un aspetto business nel senso può essere indirizzato anche a un target che non viene per forza qua per vacanza perché l'ha scelta lui e vuole prendersela lui esistono gli incentive esistono i viaggi legati al team building esiste l'empowerment delle risorse umane che molto spesso utilizzano le meccaniche del gioco di ruolo del lavoro di gruppo dello sport in gruppo comunque dinamiche di gruppo e molto spesso lo sport lo sport come il cibo sono due elementi che vengono usati sono molto sono consolidate come tecniche si mettono persone insieme in una cucina a preparare una ricetta si mettono persone insieme in una vigna a vendemmiare ciascuno ha manager condipendenti dell'ultima del livello più basso tutti insieme senza la divisa senza il ruolo a fare lo stesso lavoro per creare maggior sinergia tra le risorse umane esistono eventi in cui si i percorsi avventura nei quali comunque tutti si misurano col ponte tibetano col bungee jumping con altre esperienze di questo tipo perché serve a creare a vincere le proprie resistenze anche nella relazione con l'altro e a creare un ambiente di lavoro nel gruppo di lavoro che sia più solida e più matura un ambiente naturale si presta molto bene a questo tipo di offerta quello che riscontravamo ieri in una conversazione molto fuori dagli schemi era il fatto che manchi alla terza parlando di questa destinazione manchi un manchino infrastrutture per supportare numeri di quel tipo esistono questo tipo di prodotti anche per gruppi molto ristretti molto spesso si fanno anche per i soli manager o per uffici specifici quindi 15, 20, 30 persone e si riesce a sistemarle su numeri più grandi questo tipo di prodotti di progetti hanno bisogno anche di infrastrutture adeguate quindi che so ci chiudiamo in un albergo per 4 giorni lo prendiamo in esclusiva se l'albergo non c'è dove li chiudiamo? poi in quell'albergo li potremmo portare alla gravina in cantina a cucinare tutto il resto però gli occorre anche l'infrastruttura che in questo momento manca manca però come diciamo manca qua e non è detto che a Taranto Taranto c'è per esempio e non è distante Taranto si può ragionare Matera c'è per esempio però Matera non permette di fare un discorso magari è città comunque in qualche modo devi comunque uscirne puoi uscire per fare le attività verso la terza quindi ragionare anche su altri target che non siano necessariamente leisure ma anche che abbiano una motivazione più estremamente business non solamente con chi già avviene per ragioni di affari in questa regione ma anche con chi potrebbe venire perché col suo ufficio vuole organizzare un evento che riguarda comunque la sfera del business ma ha una vocazione un po' diversa e lo sport si presta molto bene l'anno gastronomico anche tutto quello che ha a fare con l'agricoltura ha anche tantissimo cioè si vanno a raccogliere le mele si fanno cose di questo tipo qui avete tutto quello che serve e quindi comunque anche questa è un'altra suggestione che oggi pomeriggio potremmo attivare durante le simulazioni che faremo delle offerte che proveremo a studiare a mettere insieme sì sicuramente anche questo è un aspetto da considerare fondamentale grazie sì grazie è già acceso no? noi avevamo Sud Italia Sud Italia passioni romance e destinazione esclusiva e quindi abbiamo individuato un diciamo il profilo di un soggetto la terza risponde in questo momento a un discorso di romanticismo destinazione esclusiva e passione? di no cioè a mio parere no non ancora non ancora no ok quindi abbiamo scelto in realtà Matera come destinazione per questo e allora destinazione abbiamo diciamo come romance abbiamo immaginato una proposta di matrimonio in realtà una proposta sì una proposta di matrimonio e abbiamo immaginato un'offerta variegata diciamo poi a seconda con delle attività con un arrivo sì un fine settimana con un arrivo in un essendo una destinazione esclusiva in un diciamo in un albergo 4 stelle 5 stelle un bel albergo sì un bel albergo magari una suite con la jacuzzi tutte queste tutto quello che serve il pacchetto classico un pacchetto con una spa e con diciamo un massaggio di coppia una cena all'ume di candela e una proposta quindi arrivano da soli sì sì no c'era anche la possibilità eventualmente l'arrivo all'aeroporto con navetta abbiamo ipotizzato no arrivano in due questo intendevo scusa sì 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 arrivano arriva la coppia la coppia e basta e oltre diciamo all'offerta quindi la camera la suite con una cena all'ume di candela il ristorante stellato eventualmente il giorno successivo addirittura c'eravamo immaginati un giro in mongolfiera questo c'è un servizio di si può fare si mongolfiera qui ballona c'è stato un ballon festival l'hanno riproposto più di un però c'è un servizio in pianta stabile qui in Basilicata no no nessuno ha una mongolfiera che usa questo scopo qui in Basilicata pensavamo che essendoci stato il festival ci fosse anche questo servizio comunque eventualmente una visita dei sassi che secondo noi ricordatevi che vi metto in contatto questo è proprio fuori dagli schemi con un operatore con l'operatore in Cappadocia ha portato le mongolfiere perché è splendido perché poi passano nelle gole ogni tanto qualcuno viene anche giù però insomma è un po' complesso fare mongolfiera in Cappadocia però è molto bello e lui ne ha fatto un attrattore è stato il primo a portare le mongolfiere in Cappadocia tra l'altro è un tour operator turco che ora è diventato bravissimo anche a fare il destination wedding e qui mi aggancio subito prima che mi passi l'idea che mi è venuta in questo momento anche al discorso destination wedding tra l'altro l'idea c'è anche una wedding planner invasora e wedding planner la Puglia è brava è forte su tutto quello che è matrimonio ok ne ho visto io stessa ho partecipato io stessa ragazzi li fate da Dio bravissimi un livello di professionalità pazzesco un livello anche di attenzione al mediamente molto alto rispetto alla alla scenografia altrove i matrimoni di questa dimensione possono essere estremamente pacchiani non lo nascondo cioè ne ho visti alcuni veramente terrificanti nel Lazio come in Campania come in Sicilia in Puglia in media ho visto un'attenzione allo stile più sofisticata più fresca voi che per tradizione qui si sono sempre comunque anche prodotti e la moda sposa altri prodotti bombonieri avete una bella tradizione comunque sul settore che vale la pena valorizzare avete tantissime location che possono ospitare ma il destination wedding è bello perché io arrivo a sposarmi e mi porto dietro un po' di gente ok e me la porto e facciamo delle cose in questi due o tre giorni in cui stiamo qualcuno è più come dire ha low budget qualcuno no ok ora funzionano benissimo avete avuto anche tra l'altro il traino mediatico dei matrimoni super glamour a Fasano però quello ovviamente è proprio un target diverso sì quello è un target altissimo che però serve a raccontare cioè nel senso sono venuti a sputarsi in Puglia perché Justin Timberlake o i tipi indiani vengono in Puglia gli indiani si sono un po' scelgono un po' le centricità spesso e volentieri in queste cose hanno fatto anche a Firenze lo scorso anno bloccando Firenze per tre giorni però Justin Timberlake effettivamente è un po' inusuale Sofia Coppola qui c'aveva casa quindi comunque aveva senso che venisse a delle origini Justin Timberlake no e quindi comunque va benissimo questa cosa è servita moltissimo in quel senso però è interessante ragionare sul discorso matrimoni la logistica vi aiuta avete due aeroporti tutto sommato vicini comodi piuttosto ben collegati a livello internazionale e comunque anche dovendo fare scalo a Roma con tanti voli anche di compagnie lo costo quindi comunque si può gestire la logistica le strade consentono comunque uno scorrimento veloce c'è un raggiungimento veloce anche delle destinazioni sale trattenimenti e location masserie eccetera molto belle location anche inusuale molto belle l'altro giorno su un programma americano di wedding planning ho visto per la prima volta che non capita mai nelle trasmissioni americane una location molto insolita era uno spazio industriale abbandonato che è diventato location per una cerimonia di matrimonio quindi cerimonia e pranzo quindi uno spazio di cemento con i cavi a vista con i fili che pendevano da tutte le parti decorato e riempito di fiori bianchi e luci bianche ed era meraviglioso il contrasto e mi sono immaginata lì per lì mentre lo guardavo il contesto pugliese di queste bellissime dimore diroccate molto spesso veramente tipo in abbandono che potrebbero essere convertite come location inusuali io mi immagino anche questo cortile interno sarebbe splendido come location per una cosa del genere questo palazzo potrebbe tranquillamente nel cortile interno durante la bella stagione ospitare si parla sempre di dimensioni non enormi per quel tipo di matrimoni quindi comunque ci sono gli spazi per poterlo fare la media è quella e per la recettività potreste appoggiarvi ai numerosissimi alberghi della zona che sono piccolini ma permettono comunque di gestire questo tipo di offerta è un discorso che si può fare perché poi si può abbinare a questo ragionamento le attività su cui state già lavorando le persone vanno intrattenute per tre giorni quindi comunque le possiamo portare a vedere i trulli sicuramente che vorranno sicuramente andarci ma possiamo portarli anche a Matera ma possiamo anche fargli fare l'escursione alla gravina possiamo fargli fare il matrimonio super enogastronomico orientato il matrimonio lussurioso quindi per tre giorni mangiano e bevono le bagioni meravigliose andando magari a mangiarle nelle diverse location di chi produce ti porto stamattina facciamo colazione con la mozzarella e ti porto da chi la mozzarella la fa te la fai anche tu e ti regalo anche il tuo sacchettino perché oggi ci fai anche merenda si possono costruire comunque delle offerte che mettono a sistema i servizi e le proposte che già avete per un obiettivo diverso apparentemente inusuale ma sicuramente però funzionale alla vostra volontà di raccontare un territorio per intero di non tenerlo fermo solamente a una trattura o un altro la ceramica la tradizione delle bomboniere per esempio non esiste all'estero è molto nostra sostanzialmente c'è qualcosa in Albania molto poco come anche i confetti ma stanno piacendo moltissimo da che cominciò il destination wedding da che cominciò a proporlo anche agli stranieri ora anche all'estero la crispo vende moltissimo confetti all'estero molto più che prima adesso per esempio la bomboniere cominciò a diventare un oggetto interessante con un'altra motivazione però comunque si regala qualcosa agli ospiti perché non recuperare quello che abbiamo qui abbiamo la ceramica la ceramica potrebbe essere quell'oggetto di cui fai omaggio può essere un pezzo del pacchetto che offri qualcuno ti risponderà no qualcun altro risponderà non mi interessa qualcun altro a cui spiegherai che nel matrimonio tradizionale italiano è uso regalare comunque un oggetto un pensiero ai tuoi invitati noi abbiamo cose splendide in questo territorio possiamo farti il pacchettino con i prodotti gastronomici come possiamo farti anche la ceramica possiamo personalizzarla ci sono delle tessiture molto belle anche delle manifatture artigianali di tessili qui in Basilicata anche molto belle penso alla zona di Maratea questa tessitura particolare del cotone molto molto interessante si può pensare di fare omaggio di fare upselling anche di artigianato di qualità di questo tipo personalizzandolo magari con la motivazione dell'evento l'iniziale degli sposi in questo caso o qualunque sia l'oggetto di interesse si può provare a incrociare diversi piani in un racconto della destinazione che fa esperienza complessiva perché è di quello che adesso parliamo non mi dimentico anche degli altri ma siccome facendo questi esempi abbiamo tirato fuori tutti i punti che volevo toccare ora ci vediamo un attimo prima di pranzo le due sull'esperienza complessiva turistica se no poi vanno agliate da morire mangiamo e poi pomeriggio ci lavoriamo sopra mangiamo anche sì sì sono venuta apposta ve lo dico e mi devo anche portare via peperoni cruschi e mozzarella e qualcos'altro quindi comunque se qualcuno ha da consigliarmi una location una location nella quale possa andare a procurarmi dove li ho messi ecco scemo questa ok ok allora perché facciamo un brevissimo escursus di quello che vuol dire esperienza turistica ok è una parola che avrei sentito migliaia di volte penso comunque tutti adesso parlano di esperienza raccontiamo l'esperienza vendiamo l'esperienza anarchia classe anarchica ok ok allora il mondo è pieno di storie è questo lo sappiamo tutti tutti ne raccontiamo tutti ne inventiamo molto spesso tutti le abbelliamo spesso e volentieri il mondo attuale è fatto di storie di questo tipo cioè di gente che qualunque cosa faccia la comunica al mondo la racconta in tempo reale la signora qui a sinistra ha in mano l'asta per farsi il selfie perché adesso ormai anche lei non può farne a meno cioè siamo in questa situazione ieri pomeriggio ho vissuto un ragazzo in aeroporto a Roma che aveva l'asta per il selfie ancora agganciata al telefono ma stava controllando il telefono non staccando l'asta per il selfie era una cosa scomodissima ma l'ho trovato esemplificativo di come ormai quello si è un prolungamento un'estensione del braccio e quindi comunque anche quello ormai è diventato patrimonio genetico dell'umanità ok questa è una bellissima frase di Grazia Marquez che dice che la vita non è quella che si è vissuta ma quella che si ricorda e come la si ricorda per raccontarla quante volte vi è capitato un episodio un po' avventuroso un po' particolare eccetera nel raccontarlo non lo avete ma non intenzionalmente o con malizia proprio per naturale vocazione non lo avete riportato fedelmente com'era salvo il caso in cui non ne parlaste con la polizia perché eravate obbligati a farlo lo avete riportato per quella che era la vostra percezione di quello che avevate vissuto e quindi una cosa che comunque era stata brutta un incidente scomodo fastidioso un imprevisto l'avete riportato con maggiore enfasi perché per voi è stata veramente un causa di forte disagio in quel momento come anche al contrario una bella esperienza che però per qualche motivo ha avuto un valore aggiunto che si è infilato lì dal nulla piovuto dal cielo ve l'ha amplificata a mille raccontandola voi portate con voi quel tipo di percezione e quelle a cui la trasmettete la ricevono con la loro percezione quindi potranno riferirla alla loro volta in un altro modo ancora quindi quella storia originale non è sempre uguale non è sempre la stessa è per questo che dico che anche TripAdvisor non è la Bibbia TripAdvisor racconta di storie di persone mutuate da quello che loro sono e non sappiamo chi sono se io ho 100 recensioni positive e una negativa ci sta quel giorno qualcosa non ha funzionato quel giorno l'ospite era uno particolarmente nervoso se io ne ho 10 e tutte si lamentano comunque di un servizio io albergatore non mi posso ostinare come spesso vedo fare alla risposta che mi dice eh ma erano 10 sfigati antipatici quello era un francese esigente quell'altro era un israeliano lo lamentoso no parlano in 10 della stessa cosa hai un problema in albergo e se anche tu pensi di aver fatto il meglio che potevi per sistemare quel problema il meglio il tuo meglio non è il loro meglio ricomincia da capo smonta quel servizio di progetto e ridisegnalo perché il racconto che se ne fa comunque è vero che può essere sempre mediato e siccome è sempre mediato non lo possiamo controllare fino in fondo quello che possiamo controllare è il livello che noi siamo in grado di mettere in campo con il nostro servizio quindi io posso raccogliere quell'esperienza di cui faccio tesoro e provare a disegnare tenendola in considerazione non posso soddisfare sempre tutti diciamo un'altra una volta per l'ennesima volta però posso fare del mio meglio tenendo conto che tutti quelli che hanno parlato con me mi hanno raccontato qualcosa in quella maniera ok la differenza tra experience design e storytelling o meglio non la differenza ma la relazione quello spazio che vedete in mezzo lì è dove accade la magia è dove quello che io disegno come io penso debba essere l'esperienza e come l'ospite finisce con raccontarmela o finisce con l'essere narrato il momento in cui si incontrano dimostrano la comunanza di interessi quindi quello che io ho messo in campo è quello che l'altro effettivamente riceve vi faccio un altro esempio che è questo le persone disegnano un servizio presupponendo che all'ospite interessi in un certo modo l'ospite fa questo lavoro qua ok passa su un prato non asfaltato più scomodo quando piove è anche fangoso ma gli viene più comodo per qualche ragione che si fa in questo caso? si elimina il palo si ripavimenta qua di prato e si fa la statina da quest'altra parte è evidente questo accade anche nei servizi preciso preciso uguale uguale se non funziona non vi ci incaponite non funziona se tutti quanti continuano a fare una certa cosa facciamo quella anni fa mi capitò in un posto a Palma di Montechiaro in Sicilia che non è per definizione un posto splendido ha una bruttissima reputazione lo dico in tv li salutiamo anche sono simpatici però il posto effettivamente è oggettivamente da un punto di vista architettonico abbastanza brutto case molto recenti non finite è un ambiente per anni è stato molto degradato da un punto di vista anche sociale quindi comunque è una zona ad alta densità anche criminale quindi comunque di alta criminalità quindi comunque è poco piacevole c'è questo posto molto bello bellissimo splendido una vecchia casa cantoniera redattata a struttura ricettiva splendida come un intervento di alcuni designer siciliani molto elegante molto raffinato questo ambiente naturale fuori molto sofisticato all'interno veramente bello un'offerta di fascia internazionale alta molto bella loro hanno una piccola vasca per l'acqua una gebbia quindi una vasca che comunque è servita per alimentare per irrigare i campi e per alimentare gli animali sostanzialmente trasformata in piscina l'ospite si lamentava in piscina è piccolina sarà non so 3 metri per 3 la vasca non è molto lana quindi non si può definire piscina è una vasca però è l'unico punto dove tu hai per rinfrescarti in quel contesto di campagna rurale quindi che fa l'ospite lì ci sono 4 o 5 sdraio e una cesta con degli asciugamani ma per le 4 o 5 sdraio l'ospite prende l'asciugamano in camera l'asciugamano del bagno della doccia per intenderci se ne va sul prato vicino alla piscina e usa quello per stendersi in piscina macchiando l'asciugamano a bianco del bagno con l'erba naturalmente le ire del gestore della struttura quella non è una piscina quelli sono asciugamani da bagno sì ma che ti stanno dicendo gli ospiti che vogliono passare più tempo in piscina e avere più spazio per sedersi tutti quanti in piscina metti più sdraio metti più lettini metti due ceste di asciugamani colorati che non si macchiano con l'erba è giocoforza che loro prendano l'asciugamano in bagno nella camera e se lo portino là non ne hanno abbastanza vicino alla piscina ma ci vogliono stare perché gli piace moltissimo risposta non è una piscina una gebbia non lo sanno è acqua fa 40 gradi si rinfrescano qui se la vuoi a uso decorativo non frequentata non la devi rendere accessibile se lo fai e loro lo usano in quel modo ti stanno dicendo che gli serve una piscina fai la piscina comincio a pensare che da qui a 5 anni risparmierai per investire nella piscina la ragione è in quell'ottica una piscina più grande più strutturata la ragione è in quell'ottica questo intendo che l'esperienza è fatta anche di ascolto soprattutto e questo è il ragionamento che facciamo tutto questo vale perché quando si progetta il più delle volte non si progetta parlando con e progettando con quelli che friranno del servizio gli alberghi vengono progettati da architetti dai loro proprietari raramente trovo qualcuno che coinvolge nella progettazione anche una quella che si chiama la persona ovvero lo stereotipo il prototipo diciamo così dell'utente medio non c'è in progettazione arriva dopo arriva quando hanno già fatto la struttura e devono arredarla ma a quel punto spesso è tardi perché l'arredo può mettere una toppa a quello che ha fatto il progettista sulla struttura ma non la può risolvere la soluzione il problema fino in fondo quindi progettiamo sempre tutto dove è possibile insieme a chi dovrà utilizzarlo questo è la bibbia per quanto riguarda una delle bibbie la creazione di esperienza turistica Maurizio Goetz Andrea Rossi lo trovate anche su Kindle c'è anche la versione digitale ne trovate ampi estratti anche online loro fanno spesso seminari corsi in giro se vi capita non vi suggerisco che comunque hanno messo giù un metodo scientifico rigoroso per creare un'esperienza turistica ovviamente hanno buttato giù una sorta di metodologia molto standardizzata che tutti possono essere in grado di seguire e che può aiutare anche chi non ha i mezzi per avvalersi di chissà quali importanti consulenti per comunque cominciare a fare questo percorso qui l'avete già usata e quindi comunque bravi continuate così sono una grande fan di entrambi sono alcune slide trattate comunque dal loro libro qui parliamo di design per lo storytelling mi raccomando sempre esperienze specifiche per ciascun pubblico di riferimento cioè ogni target vuole la sua esperienza apposta facevamo l'esercizio di profilazione prima la famiglia con bambini piccolissimi non è quella con bambini che vanno a scuola né quella con figli che stanno alle medie tantomeno quella con figli adolescenti sono cose diverse gli vogliono esperienze diverse e questo vale sempre quindi segmentate più che potete perché siamo passati da un modello persuasivo nel quale noi convincevamo la gente a venire da noi in vacanza a un modello partecipativo quindi quello che dicevamo prima disegno il servizio sulla base di quello che tu mi suggerisci quindi prima di progettare un'offerta per bambini magari sapendo che voglio intercettare che so gruppi di famiglie che mi arrivino in stagione medio-bassa vado a cercarmi che so associazioni di famiglie che spesso si muovono insieme tutte quelle associazioni di categoria di appassionati di associazioni culturali tanto che si occupano di che so fornire assistenza ai papà separati cose di questo tipo cioè vado a capire chi è il mio target potenziale cioè devo comunque provare a informarmi su quello che c'è sul mercato e chi sta lavorando già come vorrei lavorare io che tipo di offerta ha proposto quando comincia l'esperienza di viaggio mi metto di qua e impallo anche il proiettore comincia prima di arrivare comincia quando mi ispiro quando mi viene in mente che mi serve una vacanza che ne ho bisogno quando mia moglie mi urla faccia fatti una vacanza che non ti sopporto più quando i bambini dicono mamma basta sono stanco della scuola facciamo qualcosa ok e quando io so di avere il bisogno che comunque comincia a bussarmi in testa è lì che vendo la destinazione perché lì mi cominciano a venire in mente le pubblicità che ho visto gli articoli che ho letto gli amici che sono stati recentemente che mi hanno raccontato le foto su facebook i post di quello che non conosco però comunque ho visto che ho fatto una vacanza e ho postato delle foto bellissime duemila altri stimoli ok è lì che cominciano ad affollarsi quindi quanto più uno è presente in quella fase tanto più chance ha di entrare come chiodo fisso in quella testa dopodiché partirà il discorso del raccolgo informazioni stabilito che mi serve la vacanza di relax e che voglio il mare davanti a me ho n possibilità probabilmente farò già una scrematura in base al budget quindi sapendo che non posso permettermi i caraibi o che ho pochi giorni probabilmente tenterò a stare più vicino comincerò a guardarmi in giro quindi se sono in Europa Mediterraneo per esempio e comincerò a cercare le varie cose comincerò in maniera randomica quindi metterò dentro non so pacchetti last minute o piuttosto non so qualcosa del tipo mare quattro giorni così queste ricerche abbastanza assurde che si fanno a volte su Google che però servono a cominciare a scremare e lì entra in ballo l'offerta che trovo disponibile dove la trovo questa offerta dov'è? l'offerta non è solamente il pacchetto già costruito con un prezzo l'offerta è anche la comunicazione che io esisto l'informazione sul fatto che io offro il corso di cucina che qui si mangia raddio che abbiamo fatto un wedding un matrimonio internazionale famosissimo sono tante le suggestioni che possono arrivarmi moltissime condivido naturalmente con la mia rete la mia volontà la condivido prima di acquistare e anche dopo che ho acquistato prima di acquistare chiedo ragazzi avete suggerimenti per specialmente questo lo fanno chi ha poco tempo e chi ha situazioni un po' complesse devo andare in vacanza con i miei genitori c'è un posto carino di mare dove comunque ci siano servizi anche per le persone della terza età che vi viene in mente niente spesso trovo su Facebook gente che lascia call di questo tipo dove lo porto il bambino vuole fare un corso di calcio approfitto della vacanza per fargli fare un corso uno stagio con qualche scuola conoscete qualcuno capita spesso come capita anche che dopo che ho acquistato io ho posti subito e lo fanno tutti i vari portali booking airbnb ti chiedono vuoi condividere la tua pronotazione appena fatta su Facebook Twitter Instagram perché? perché sto dicendo che intanto ho comprato su booking ma sto dicendo al mondo che io sto andando in vacanza io vado in vacanza io ho preso una casa l'ultima volta a Matera nei Sassi secondo me molto bella in realtà poi era molto bella davvero trovata su airbnb io l'ho postata in tempo reale perché era pazzesca ed era un rapporto qualità prezzo eccezionale e avendola postata tutti pensano wow che meraviglia quando vai che bello ah forse anch'io avete cinque posti letto ne occupate solamente due dai veniamo anche noi cioè si è scatenata un po' di movimento sulla cosa e sono convinta che la prossima volta che qualcuno dovesse venire a Matera qualcuno di quelli mi chiederà come si chiamava la casa che hai preso tu su airbnb perché era molto bella e comunque ha suscitato parecchio interesse quindi lo facciamo questo lavoro e questa fase è la fase che si realizza prima di arrivare ci sono due livelli uno è quello che fa il turista quindi questo che vi ho appena raccontato l'altro è il livello con il quale attivate quelle leve voi come destinazione quindi che fate farete appunto in modo che si attivi il passaparola quindi inviterete i vostri ospiti a raccontarvi su TripAdvisor o a scrivere nelle blog se hanno un blog o comunque a parlare di voi farete pubblicità sui vari 2000 possibili canali farete attiverete rapporti con agenzie di viaggio con tour operator che ancora esistono moltissimi da oltreoceano ancora si affidano comunque all'intermediario perché comunque stanno più tranquilli perché stanno magari 15 giorni e si spostano e vogliono comunque avere tranquillità di non incontrare imprevisti o altro vogliono essere sicuri che avranno una persona di riferimento quindi quel canale è comunque un canale buono e poi usano anche il famoso telefono quindi comunque si informano anche per il loro conto quindi fatevi trovare anche lì sopra naturalmente durante l'esperienza abbiamo da offrire supporto alla fruizione e quindi tutto quello che è fisico la segnaletica per intenderci sembra una banalità ma spesso manca non c'è o comunque c'è funzionale a chi ci vive per dirvi a Roma c'è questa assurdità dei cartelli per l'auditorium abbiamo tantissime attrazioni a Roma a Roma tu arrivi a Roma non c'è un centro definito è complesso definire centro una zona anche se in realtà Roma è piuttosto rotonda quindi comunque è facile anche da identificare non c'è un solo cartello non c'è una città che dica centro non c'è ma quella è una scelta che il nostro centro è molto diffuso e quindi può avere senso però esistono migliaia di cartelli che dicono auditorium e bioparco come se avessimo gente che arriva e ti dice sono così belli cioè il vostro bioparco è il bioparco del mondo perché avete cartelli dappertutto ma non c'è il cartello per Basilica di San Giovanni nella metropolitana abbiamo avuto sulle fermate l'indicazione dei principali attrattori solo pochi anni fa dopo gli ultimi lavori di ristrutturazione tipo 5 o 6 anni fa prima c'era Spagna e dovevi presumere che fosse Piazza di Spagna Fontana e Trevi che è più comodo farli scendere a Barberini perché non intasano Piazza di Spagna che è già un caos di suo l'abbiamo scritto sulla fermata solo pochi anni fa Arco di Travertino con gli Albani siti archeologici di Appia Antica l'abbiamo scritto pochi anni fa Cipro Musei Vaticani è comparso solo 6 anni fa e i musei vaticani farli scendere alla fermata del Vaticano che è quella prima è un delirio perché hai milioni di persone che escono tutte insieme e quindi gestire i flussi è molto complesso ma la gestione dei flussi è importantissima ma non c'è questo problema qua per fortuna che comunque i flussi siete comunque in uno spazio che è rurale è ampio quindi anche arrivando a grossi flussi sono più facilmente gestibili salvo che nel centro storico però comunque segnaletica anche in città nei posti dove vado a piedi è importante perché mi racconta anche quello che vedo non è solamente dimmi cos'è sto palazzo palazzo marchesale e basta cos'è marchesale un nome? non tutti pensano al marchese sedicesimo secolo buh vabbè ok antico come tutto il resto è pieno di roba antica qui dammi qualcos'altro e se quello che mi dai non me lo dare scritto dal sovraintendente non me ne voglio sovraintendente però non scritto con il linguaggio dello studioso del ricercatore edificio di epoche ipogea ora sto ammilantando perché comunque non interessa a nessuno perché non sanno che significa ipogeo è una parola che conosciamo benissimo in Puglia e in qualche altra regione se io dico ipogeo a Roma beh no a Roma ancora si siamo pieni di roba ipogea ma se lo dico qualche altra ipogeo ipogeo è un movimento astronomico cos'è ipogeo non sto scherzando ragazzi non sono parole usuali sono desuete in molte in molte conversazioni cioè raccontiamolo con quello che è il linguaggio colto preparato e perfettamente argomentato ma comprensibile e soprattutto non soltanto in italiano in due lingue preferibilmente anche in braille perché è carino ed è gentile che anche un non vedente possa sapere almeno dove che l'hanno portato sarebbe anche interessante pure sta cosa però quello è importante ma come quello tanto l'altro esistono le app esiste il gps esiste il wifi perché senza quello avendo il problema del roaming lo straniero il telefono non lo accende se no spende un patrimonio e quindi la copertura wifi sarebbe gradita importante utile possono esistere app la destinazione può farsi la sua app ma anche no sono soldi spesso buttati ma sicuramente si possono georeferenziare sulle app di qualcun altro cioè si può guardare quello che esiste già per questa destinazione ed entrarci e rendersi visibili su quello che è già disponibile non dobbiamo per forza inventarci dal nulla qualcosa di nuovo tutti con la fissazione di fare per forza gli inventori di qualcosa ci facciamo la nostra app il nostro sito il nostro motore il nostro booking engine per prenotare no cioè non serve booking la terza non esiste cioè visit Puglia va bene questo è sufficiente ok basta così sta lì mettiamo le strutture di visit di la terza dentro quel portalone gigante di provincia di regione eventualmente di destinazione lì sì ma non ci stiamo a sperticare su a noi vogliamo avere la nostra app no no per favore poi se ne facciamo una che può essere davvero efficace interessante sì ma dopo attentissime avutazioni e lo dico a tutti pure le città minori a volte non servono le app esistono già le app sull'app o store guardate quelle che già esistono e mettiamoci dentro quelle già esistenti che sono già abbinatamente scaricate e già testate costa anche molto meno fare questo lavoro e funziona anche molto di più le informazioni on site sono importanti quindi uffici del turismo aperti con orari utili al turista chiaramente se il turista viene in centro a mangiare fuori l'estate e staziona tra le due e le quattro non lo chiudiamo a pranzo l'ufficio del turismo magari ecco non mi sembra ad albero bello ci hanno provato a fare questo lavoro hanno smesso per fortuna credo mi hanno dato notizie comunque di miglioramenti recenti chiudeva così domenica aperto fino a mezzogiorno perché non è previsto che un turista possa arrivare anche nel pomeriggio dopo pranzo a fare una gira pomeridiana no non è previsto non ci siamo in questo senso quindi facciamo in modo che comunque le informazioni a ufficio chiuso possono comunque essere disponibili in altri contesti esercizi commerciali in posti piccoli possono essere un ottimo veicolo di informazione anche turistica il negozio il ristorante il bar può avere uno spazio una mensola con le piantine delle piccole brochure se servono l'informazione che esiste una app nel quale la terza compare ci sono canali per raccontarsi che non devono per forza essere l'ufficio per il turismo non soltanto tutti gli altri devono concorrere a questa costruzione di informazione relazioni in mobilità nuovamente il discorso del wifi cerchiamo di rendere di quanto più semplice la gestione anche delle informazioni da mobile se c'è modo se avete reti già aperte se alcuni commercianti hanno già attivato il wifi nel loro esercizio commerciale il ristorante il bar l'albergo proviamo a creare una rete sinergica se sono vicini fra di loro e ne manca solamente uno di negozio e mezzo e convinciamolo ad aprire sta rete che magari vuol dire che anche chi sta in quel quartiere riesce comunque a navigare più o meno decentemente esistono tanti modi ormai per proteggersi anche da uso improprio della rete esistono tanti filtri e comunque sia la protezione estrema non fa bene a nessuno tanto comunque un hacker bravo c'è sempre in giro quindi perché stressarsi la vita offriamo il servizio e sicuramente le persone ne faranno comunque un uso saggio è evidente non si metteranno a scaricare da torrent un film per intenderci insomma ecco da parte delle leve di esperienza che possiamo fare possiamo provare ad attivare tutta una serie di elementi fondamentali e quindi il discorso logistico alla terza come si arriva se arriva con un bus ok gli orari del bus sono effettivamente compatibili con quelli di un'offerta turistica non lo sappiamo possiamo modificarli? sì lo facciamo no costruiamo l'offerta in modo da essere coerente col trasporto se l'ultimo bus mi parte alle 3 e mezza ha poco senso fare un'offerta per cui l'ospita arriva qua il venerdì sera o me lo vado a prendere col transfer privato o lo faccio venire sabato mattina è evidente no? ok e questo vale per il resto diciamo anche poco fa lavorare anche sugli altri sui servizi ancillari i ristoranti i negozianti sono tutti portatori di interesse e tutti ugualmente capaci di contribuire comunque alla percezione dell'esperienza complessiva successivamente alla visita teniamo il contatto e quindi se l'ospite ha fatto un commento sul TripAdvisor rispondiamo gli ringraziamolo in ogni caso lo scusiamoci per un disservizio quello che sarà se l'ospite ha stabilito con voi un buon legame anche umano che ha facciato questo compleanno per un caso l'avete scoperto segnatevelo al prossimo anno fatevi un alerte sul computer mandategli gli auguri se è un australiano soprattutto mandagli ogni due settimane la newsletter con le nuove offerte non serve a niente perché l'australiano non torna tutti i mesi alla terza questo è un vizio che hanno moltissimi newsletter a tutti tutto uguale profiliamo anche la newsletter quella che mando al milanese o al napoletano può essere molto frequente perché sta qua vicino può tornare spesso volendo in teoria non è detto ma un americano un norvegese due volte l'anno se siamo molto fortunati mandargli ogni 15 giorni le tue nuove offerte non serve a niente manda un'offerta per lui manda un'offerta sapendo che fra due mesi le scuole saranno in vacanza 15 giorni dirgli guarda so che per questo spring break che avrete la primavera ci sono 15 giorni liberi quest'anno di vacanza perché non ti viene a fare ho creato un pacchetto apposta per voi che avete le vacanze in quel periodo quella funziona di offerta le altre dopo un po' si cancellano con le sue lettere non le lego neanche più teniamo il contatto sottotteniamolo anche da parte operatori col passaparola social l'esperienza dell'ospite è anche una vostra esperienza se lui è stato molto bene è venuto con voi a fare una gira che si è fatto un selfie insieme e postatelo il suo selfie ero qui con i miei clienti Kevin e Roman da New York eravamo a degustare questo fantastico vino in questa bellissima cantina foto della cantina foto del vino foto di Kevin e Roman voilà ma sul vostro account social dell'albergo del ristorante o del servizio che gestite cioè raccontiamoci anche noi non aspettiamo che sia soltanto loro a farlo perché questo raccontarsi incrociato amplifica il messaggio naturalmente ora tagliamo e vi faccio vedere qualche esperimento di dove stanno ah no è vero non me lo fa da qua devo fare così ehi beh che succede ah già scusate visualizza dove sta oh dov'è sì bravo faccio prima grazie non ci vedo ecco grazie facciamo prima che non ci vedo sono senza occhiali allora vi faccio vedere qualche esempio del perché una storia è importante la costruzione della storia guardatevi un paio no non c'è più connessione o sì ma andava prima no ve lo faccio vedere dopo pranzo aspetta forse ce la facciamo sì forse ce la facciamo torniamo sulla presentazione aspetta allora eh lo so sta qua sotto però aspetta che adesso oi vabbè chiudiamo questo facciamo così ma che è successo perché ne hai aperte 5 o 6 che è successo ha aperto una quantità di finestre inverosimili ok sono due minuti e mezzo è veloce mi somiglia anche un po' questa destinazione per certi versi che è successo è successo ma che è successo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.